Il Forum 2018 è dedicato ai siti UNESCO del Friuli, quindi diventa itinerante, saremo a Forni, saremo a Tolmezzo, saremo a Civitale, Aquileia, Palmanova, i siti che l'UNESCO ha riconosciuto per diverse ragioni come luoghi eccezionali, ma insieme a questi sarà anche Udine sede di un programma che non si decentra, ma si sviluppa andando ad incontrare in quella realtà gli operatori, gli imprenditori, gli amministratori, tutto quel mondo che sta girando intorno alle imprese culturali e a quelle che vengono definite le industrie creative, che in termini di prospettiva e di sviluppo sono dei settori su cui anche la nostra regione come il nostro paese dovrà puntare. Riusciremo a parlare innanzitutto di economia della bellezza, perché questo è il titolo del Future Forum, ma parleremo di come bisogna fare rete e collaborare per poter avere dei risultati migliori, sia come città che come comunità che come imprenditori, parleremo di quali sono le nuove professioni del futuro che in questo settore si stanno schiudendo, invitando i direttori di Google Italia, così come esperti di Wired o del nuovo turismo esperienziale. Discuteremo anche di come il marketing e la comunicazione stanno modificando questo settore, utilizzando le nuove tecnologie, dall'ICT fino ai nuovi modelli che trasformano l'esperienza del visitatore in un'esperienza immersiva. La Camera di Commercio segue da diversi anni un progetto che è stato titolato Mirabilia, unisce i siti UNESCO del nazionale in una rete che tende a cambiarsi esperienze, collaborazioni e anche casi particolari di studio che possono aiutare ogni singolo centro a migliorare le proprie capacità e le proprie qualità. Questa rete Mirabilia si sta ora aprendo anche al centro Europa, ad altri siti UNESCO, creando un network che di fatto disegna i confini e i poli di una nuova economia della conoscenza.